BIAGIO Ehi! Quanti siete? BIAGIO 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 Fatti parlare ragazzi SI BIAGIO Parla, parla pure il viaggio, che ascoltiamo Allora ragazzi, ci stessevo Io volevo sempre salutarvi con tutto il mio feste e cuore, dirvi di farvi una bella serata, divertirvi a parlare con me, a me voglio un anno meglio insieme a tutti i parenti e poi godetevi la cosa più importante, io volevo portare per i suoi amici, mi ascomando. Siagio, sono Mirio! Che culo! Siagio! 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 Eeeeh eh eh eh, Ghiago Ghiago, Ghiago Ghiago, Ghiago Faccio, Ghiago, Ghiago, Ghiago e mi fa il coraggio. Ho visto Vazionati, ho visto Vazionati, Pata, il lavoro Vazionato. Hai capito, Ghiago? Potete venire, Viaggio! 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 Viaggio, senti, volevamo chiederti una cosa perché siamo veramente tanto, tanto curiosi. Quando è prevista l'uscita del nuovo tuo lavoro? Allora, io sto lavorando, da due minuti e mezzo, dopo un cd, credo che dovremmo fare bene le cose partendo, però gli è rimasti verso aprile, maggio, prima c'è l'estate. E quindi, se i figli è stasera, ti editarò il mio canale, lo sento, lo sento, lo sento, lo sento. Viaggio! 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 Senti, Viaggio, sì, no, ti chiediamo scusa perché ti ripeto, ci sono delle, purtroppo delle interferenze, ti sentiamo a tratti. Viaggio! 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 Dagli! Viaggio! Ritienano la tua presenza, Viaggio, tante volte ti incontrasti a portare per Roma, stai, che puoi essere tranquillamente ospite qui. e no, il fuori a me che si sta non lo ha chiamato a scopo nel fratello, io devo prendere due parole per il mio perché, secondo me, ogni volta che voi suonate che Antonio ogni volta che fate qualcosa di bello, musica, non si tratta e che contate le mie parole comunque fate, fate sopra tutto a me, ma soprattutto aiuto